Salve a tutti voi, in questa puntata parliamo di stranieri e infortuni sul lavoro. In tutto il mondo i lavoratori che vengono da altri paesi si fanno più male dei lavoratori nati nel paese in cui lavorano, sia per un problema di lingua, sia per un problema di non conoscenza delle abitudini lavorative di quello specifico paese. In Italia nel 2011 gli infortuni sul lavoro di cittadini stranieri sono stati ben 119 mila. In Italia gli infortuni degli stranieri sono il 15% sia degli infortuni complessivi sia degli infortuni mortali. Il settore più colpito è quello delle costruzioni, nel 2011 ci sono stati più di 13 mila infortuni, cioè il 12% delle denunce, questo anche per i casi mortali. L'incidenza infortunistica, cioè il rapporto tra gli infortuni denunciati e i lavoratori assicurati all'INAIL è più elevata per gli stranieri, 38 casi denunciati ogni mila occupati contro i 35 casi degli italiani. Gli infortunati stranieri sono, come gli assicurati stranieri, prevalentemente giovani. Le tre nazionalità maggiormente presenti in Italia sono Romania, Marocco e Albania e fra loro tre assomano circa il 40% degli infortuni sul lavoro. Per i casi di infortuni mortali queste tre nazioni, Romania, Marocco e Albania salgono al 51% dei morti. Il 42% degli infortuni a cittadini stranieri viene nel nord-est e per quanto riguarda l'Emilia Romagna, nel 2011 vi sono state più di 22 mila denunce di infortunio che hanno coinvolto stranieri. Vi presentiamo alcune interviste con cittadini stranieri che spiegano il loro punto di vista e poi vediamo interviste con esperti, in particolare analizziamo nella seconda parte della trasmissione la nuova legislazione italiana che obbliga i cittadini stranieri che vogliono il permesso del soggiorno ad acquisire una conoscenza buona della lingua italiana documentata con attestazioni legalmente valide. Sono quasi mezzo milione di persone ai quali bisogna aggiungere almeno 90.000 lavoratori irregolari. Nelle aree metropolitane rappresentano oltre il 60% dell'intera forza lavoro italiana. Nei prossimi anni, tra l'altro, il loro numero è destinato a crescere ancora e molto. Sono gli operai immigrati nel settore edile, il comparto economico italiano che accoglie il maggior numero di lavoratori stranieri. A loro, molto spesso, sono destinate le mansioni più dure e le peggio retribuite. Infatti guadagnano in media il 38% in meno rispetto a un italiano dipendente, anche se come gli italiani convivono con il concreto rischio di infortuni. Tutti i lavori che c'è in cantieri io posso farlo, però di più faccio la muratura, l'intonaco, i piastrelli, i marmi, quello che c'è qua. Il pavimento, l'intonaco, adesso c'è il cantiere dell'aula, il cantiere è grande, c'è tanti operai. Facciamo un po' di tutto, quello che ci capita per vivere lo dobbiamo fare. Io sto dieci anni qua in Italia, è sempre piaciuta l'Italia, ho trovato bene, la gente è tutta brava. Sicurezza così è meglio, però noi anche sicurezza è meglio, tante leggi, però qua in Italia c'è tante leggi, non mi caccina. Io ho fatto anche i corsi per la sicurezza, tutti, non è che deve sbagliare, quello che c'è da fare è fallo. Sì, alcuni siamo pigri, quando arriva il sole noi ci dà fastidio, tutte le regole, il nuovo medio orientale le regole dà fastidio, di nascita, è un po' da noi. La formazione dei lavoratori extracomunitari è prevista per legge, ma i decreti non fanno la sicurezza. Che cosa fare? Studi, ricerche, analisi sono importanti. L'Aifos ha tentato un percorso, diciamo, un po' originale, seguendo quelli che sono i sistemi di gestione. E dopo aver fatto molte esperimenti ed esperienze, siamo arrivati a una conclusione semplice ed ovvia, che per fare la formazione dei lavoratori stranieri bisogna partire dal vertice aziendale. Se il vertice aziendale non è consapevole, la formazione non si fa bene. Ma non è sufficiente che il vertice aziendale sia consapevole, perché di questo di fatto lo è, a voce o a parole. Le grandi difficoltà che noi abbiamo trovato nel nostro lavoro, e che vuol dire come superarle, perché le difficoltà si trovano e si devono superare, la grande difficoltà è stata quella di far comprendere ai dirigenti, ai datori di lavoro, l'importanza della formazione, e ci siamo scontrati di fronte al problema della lingua. La lingua rappresenta uno degli ostacoli principali, e gli strumenti messi in campo fino adesso non hanno risolto completamente questo problema. Io stavo desmontando il elevatore della obra. Comecei l'anno 19, quando io c'era nel 10o andar, la tabla escorregò, ai io caì. Non usavo cinto, perché per me non succedeva questo con me. Un dia che io usi, grazie a mio bom Deus, cinto mi salvò. Se non, io non sarei qui mai, non. Perché onde mai sentirei mia falta non è nel lavoro, è nella mia casa, nella mia famiglia. Gli accordi di integrazione si collegano a un nuovo filone di politiche sull'immigrazione in Europa. Un filone, per dirla in brevi parole, che ha abbandonato, dichiarato di rinnegare il multiculturalismo per passare a un modello che possiamo definire neoassimilazionista. Cioè i paesi riceventi vogliono chiedere maggior impegno agli immigrati per diventare simili alla popolazione dei paesi riceventi. E imparare la lingua è un simbolo di questa volontà di assimilarsi. Gli accordi di integrazione tendono quindi a trasformare quello che un tempo era una risorsa, un auspicio in un obbligo, in un dovere degli immigrati. C'è quindi un'ambiguità politica dentro queste misure, una volontà di maggiore controllo, anche di una sorta di imposizione di un modello nei confronti degli immigrati. E tuttavia pur con questi limiti, all'interno degli accordi di integrazione, si stanno sviluppando delle buone pratiche, dei progetti, delle attività per investire sulla formazione linguistica degli immigrati. E imparare la lingua è una risorsa strategica per quanto riguarda i processi di integrazione economica, trovare, mantenere e migliorare un lavoro. E per quanto riguarda la partecipazione politica, in particolare quella partecipazione politica quotidiana dal basso, che oggi la partecipazione è accessibile agli immigrati anche quando mancano della cittadinanza italiana. E' importante anche riuscire a dare la giusta accoglienza e integrazione a tutte queste persone, a questi lavoratori che vengono da noi per trovare un posto di lavoro e dare un futuro a se stesse e a loro famiglie. Per gli stranieri è importante anche dei corsi specializzati sulla sicurezza. Molte volte succedono infortuni anche solo perché non si è capito bene un segnale, perché non si è stati capaci di leggere un'istruzione. Allora una giornata prima di entrare nel cantiere sulla sicurezza, in particolare per i cittadini stranieri che possono imparare bene i nostri segnali, i segnali di pericola e che possono anche intendersi bene con gli altri colleghi di lavoro. Perciò in particolare per i cittadini stranieri noi chiediamo una maggior formazione attraverso il nostro sistema di scuole edili che possa permettere di inserirsi nei luoghi di lavoro utilizzando al massimo la sicurezza. La coda di integrazione che è stato introdotto nel 2009, prevede una serie di obblighi di acquisizione di crediti, 30 in totale e l'obbligo di non perderne a seguito di determinati fattori come possono essere delle condanne penali per un numero indefinito di casi oppure delle sanzioni amministrative con delle multe per violazioni tributarie e quant'altro, oppure per mancato superamento dei testi in lingua, oppure per mancata conservazione dei 30 crediti che si devono raggiungere entro i due anni, la criticità è data dal fatto che chi non riesce per una serie di ragioni a maturare questi crediti perde il permesso di soggiorno e viene espulso. se un funcionario non for responsabile o que acontece a todos os outros traz stress e a sua familia lamentando sem tristesse acidente quando menos se espera é que acontece por isso procedimentos foram estudados e criados com base em estudos detalhados pra evitar que o mesmo erro se repita pari e pensi no procedimento e recupisca nelle costruzioni lavorano regolarmente 346.000 immigrati ma sono proprio loro a essere colpiti di più dalla cassa integrazione e ad essere pagati in media 133 euro al mese di meno dei colleghi italiani e la fotografia scattata dal settimo rapporto filea Ires CGL sui lavoratori stranieri nelle costruzioni. La fotografia lascia vedere in maniera impietosa gli effetti che la crisi di per sé devastante ha prodotto sui più deboli. Già nel 2009 a inizio di questa pesante fase recessiva denunciamo i rischi che stante l'attuale quadro regolativo del settore la crisi si potesse scaricare in maniera più drammatica e pesante sulle condizioni dei lavoratori migranti in quanto più esposti da diversi punti di vista sia quello delle tutele legislative sia quello dei bisogni ai venti della crisi purtroppo i fatti ci hanno dato ragione di qualificazione sotto salario ma soprattutto l'emergere di nuove e pesanti paure. La crisi evidenza il rapporto cambia anche i progetti migratori meno rimessi a casa e a volte si pensa anche di tornare al proprio paese d'origine. Per un cittadino straniero ritornare oggi dopo 20 o 30 anni nel proprio paese d'origine vuol dire un cambiamento radicale anche psicologicamente e culturalmente per lui e per la propria famiglia perché magari i propri figli, i loro figli sono nati qua. Vuol dire ritrovarsi di nuovo stranieri anche nel paese d'origine. Manutencoppa in Italia ha circa 16 mila dipendenti e abbiamo un numero molto elevato di lavoratori non nati in Italia, superano i 2000. Noi abbiamo fatto tutta una serie di interventi articolati di formazione e di formazione anche sui lavoratori stranieri, in particolare abbiamo cercato di aiutarli anche per problemi della lingua, quindi abbiamo preparato e diffuso del materiale non soltanto in italiano ma anche nella lingua conosciuta da queste persone, anche se devo dire che ormai molti di loro parlano molto bene l'italiano. La situazione secondo noi è una situazione buona, abbiamo investito moltissimo, sono migliaia di interventi di formazione all'anno che noi facciamo, ma dobbiamo dire che comunque questo per noi è una priorità, per cui non abbiamo nessuna intenzione di cambiare e non soltanto, abbiamo anche stabilito un sistema molto attento per quanto riguarda il controllo del lavoro in sicurezza delle imprese esterne e quindi delle ditta palzatrici. Noi facciamo prevalentemente igiene, pulizie, manutenzioni, ma più vuol dire spesso ci troviamo ad operare con altre aziende fornitrici che fanno per esempio interventi edili, ristrutturazioni anche importanti. In questo caso noi chiediamo, non ci limitiamo a chiedere il rispetto del DURC, ma facciamo degli audit molto attenti sia sui laboratori di origine italiana che soprattutto su quelli di origine straniera. Esigiamo che essi possano essere identificati chiaramente, esigiamo che ci siano le prove del versamento dei contributi e dell'assicurazione obbligatoria, esigiamo che rispettano gli obblighi di sicurezza, quindi usino i mezzi di protezione individuale e soprattutto dobbiamo anche e sempre verificare che essi siano stati veramente e debitamente formati prima di iniziare il compito che devono svolgere. Lei in pratica cosa fa per prevenire, per evitare gli incidenti? Allora, personalmente sono molto fiscale, ho avuto diversi dipendenti in tutti questi anni anche italiani e la prima cosa che chiedo, per esempio ho fatto a uno di questi qua una domanda precisa, qual è la cosa più importante quando uno lavora e quindi dopo un po' di tempo, anche giorni, è passato persino una settimana e questo ragazzo, perché era molto giovane, maggiorene, ma era molto giovane, mi ha dato tutte le risposte del mondo, ma non mi ha dato la risposta che mi aspettavo io e alla fine lui è rimasto, se lo ricordo ancora, dopo tanti, da tanti anni, dopo sette anni se lo ricordo ancora, la risposta era la cosa più importante e non farsi male e poi tutto il resto viene dopo.